Settembre sarà un mese dedicato per boss e gregari della cosca Piromalli. Molti imputati e implicati nei maxiprocessi, tuttora in corso, rischiano pesanti condanni a settembre. Alla riapertura dell'attività giudiziaria infatti andranno a sentenza due importanti procedimenti istruiti dalla distrettuale antimafia di Reggio Carabria. Si tratta dei processi nati dalle inchieste denominate Provvidenza e Atlantide, mentre si attende la fissazione dell'udienza preliminare del processo Metauros, indagine che avrebbe svelato le infiltrazioni della potente famiglia di Gioia Tauro nella gestione dell'inceneritore della città del Porto e dell'impianto di depurazione. Mentre per gli imputati nel rito ordinario il processo davanti al Tribunale di Palmi ha avuto appena inizio per i 19 che hanno già scelto l'abbreviato, è già tempo di sentenza di primo grado. Il 26 settembre prossimo potrebbe essere la data giusta in cui il GUP distrettuale emetterà la sua sentenza. Si parte dai 232 anni di carcere richiesti dal PM antimafia Giulia Pantano. L'operazione della DDA Regina scattata nel gennaio 2017 ha coinvolto più di 40 persone accusate a vario titolo di far parte della cosca Piromalli di Gioia Tauro. Il sostituto procuratore Giulia Pantano ha chiesto la condanna di Antonio Piromalli, a 24 anni, Pasquale Guerrisi, 18, Domenico Stanganelli, 20, Carmine Alvaro, 14, Rocco Sacca, 10, Giovanni Sergio, 10, Grazia Piromalli, 8, Pietro Gallo, 14, Francesco Trunfio, Alessandro Pronesti, 16, Gioacchino Careri, 8 anni e 6 mesi, Domenico Careri, 8 anni e 6 mesi, Loredana Sciacca, 13 anni, Francesco Sciacca, 14, Antonio Pietro Sciacca, 8, Carmelo Sciacca, 8, Annunziata Sciacca, 8, Francesco Arcuri, 10, Cinzia Ferro, 4 anni. Per gli 11 imputati che hanno scelto di essere giudicati con rito ordinario, il processo è iniziato il 23 di marzo scorso davanti al collegio del Tribunale di Palmi.